Salve a tutte e tutti, sono Luigi Taras, coordinatore della Scuola del Popolo Antonio Gramsci, CGL di Uristano. Oggi vi proporrò la seconda pillola riguardante un'altra mia opera scultorea che si intitola Tradizioni. È del 1995, realizzata in Trachite Rossa di Fordongianus ed è situata nella piazza centrale di Sola Russa, in provincia di Uristano, grazie all'interessamento dell'attuale amministrazione comunale che ha ritenuto di dover intervenire per rivalorizzare lo spazio di verde pubblico nel centro di questa cittadina. L'opera Tradizioni è stata il centro del progetto di un laboratorio di apprendimento delle tecniche di lavorazione della pietra che ha visto impegnate una dozzina di persone di sola russa. Il corso ha avuto inoltre l'intento di far partecipare i cittadini e di stimolarne la motivazione affinché, nella realizzazione di un'opera scultorea monumentale, fossero protagonisti attivi dell'intervento sul loro spazio civico. È stata un'esperienza molto interessante e arricchente per i partecipanti e per l'autore del progetto. Sono stati prodotti diversi lavori realizzati direttamente dai corsisti caratterizzati dalle differenti tecniche plastiche, tutto tondo, mezzo tondo, basso rilievo e stiacciato, nei quali hanno raggiunto risultati veramente sorprendenti. Di queste opere è stata poi allestita un'esposizione nella Casa Sanna, storico monumento del paese. Infine, raggiunta un'appropriata preparazione tecnica, i corsisti hanno potuto esercitarsi direttamente in alcune parti del monumento stesso. Ciò ha determinato una notevole soddisfazione nei partecipanti e la completa adozione da parte della popolazione dell'opera stessa. Tradizioni, quindi, è realizzata con la tecnica del tutto tondo, in pietra di trachite, in imbrite, di colore rosa, di circa 7 tonnellate di peso. La scelta di utilizzare i materiali del territorio è coerente con l'intento dell'autore di valorizzare le risorse locali e in particolare quello di caratterizzare l'ambiente in cui si opera con ciò che maggiormente lo identifica dal punto di vista del proprio patrimonio socio-culturale e ambientale. Trattasi di una fontana raffigurante davanti alcuni elementi della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Lo stile tra il figurativo nelle parti che riguardano le figure umane e alcuni elementi della cultura materiale, vedi la ceramica, gli arnesi per la lavorazione della pietra o sorriu, che è un ordito di canne, il quale avvolge nella parte posteriore l'intera opera e l'informale, rappresentato nella forma visibile di un involucro, una crosta. Un guscio che nella sua spessa stratificazione metaforicamente raffigura il nostro vissuto storico e identitario nel manifestare il suo intrinseco effetto di condizionamento e limitazione. Lo stile utilizzato tenta di uscire dai canoni di una raffigurazione sempre e seppure fascinosa del nostro modo di essere o meglio di essere stati con l'uso e l'abuso di una iconografia logora nell'uso del racconto della nostra identità. Vuole pertanto metterla in relazione con la realtà contemporanea. Questa rappresentazione che, come si è detto, tenta di non cadere in stereotipi rappresentativi nella loro iconografia storica, prova a creare un tramite fra ciò che è una cultura materiale, che ormai è un passato, e una realtà proiettata verso altre forme di società completamente diverse. In questo senso l'opera appare nel complesso quasi metafisica. Infine, come per tutte le opere che verranno presentate, lo spirito di questo intervento artistico è quello di creare stimoli di riflessione attraverso opere che offrono elementi di sollecitazione culturale e momenti di analisi critica della propria realtà con altre realtà. Arrivederci alla prossima descrizione di un'opera plastica. Ciao!